Sono qui per l'ultima lezione del Master in PNEI della PNEI Sistema Academy. Sono molto felice di aver partecipato a questo corso in quanto mi allicchina molto sia umanamente che professionalmente. Mi consentirà di valutare il paziente a 360 gradi, di agire con una terapia personalizzata perché tutto si sviluppa dalla mente. Con soltanto una dieta personalizzata non riuscirai mai ad aiutarlo completamente. Tutto questo mi aiuterà e renderà l'antrizione sempre più consapevole per cui invito tutti i professionisti della salute a partecipare.